Con la zona rossa anche la chiesa si ferma, sino a quando la regione Puglia non sarà dichiarata zona gialla, non si terranno le celebrazioni dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, prima confessione e coarestia e confermazione, inevitabile motivo di incontro tra parenti e persone care. Lo ha deciso l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, a causa dell'incremento della diffusione del virus nella regione, in particolare nel territorio barese. Si è inoltre stabilito che sarà possibile la celebrazione dei matrimoni con tutte le necessarie attenzioni e condizioni sanitarie prevedendo un attento e scrupoloso monitoraggio degli invitati nel rispetto doveroso del numero contingentato secondo la disponibilità della chiesa presso la quale le nozze vengono celebrate. Con riferimento ai funerali, quelli per Covid saranno celebrati con il solo rito delle sequie non in chiesa ma al cimitero, preferibilmente all'aperto, evitando assembramenti, mentre la messa potrà essere celebrata in chiesa concordandola con la famiglia non prima degli otto giorni dall'evento luttuoso. Nel caso invece dei decessi non causati per Covid, si consiglia di prestare molta attenzione prevedendo, come per i matrimoni, un attento e scrupoloso monitoraggio nell'accoglienza dei fedeli, rispettando doverosamente il numero di presenze consentite per ogni singola chiesa. Insomma, anche l'Arcidiocesi impone le sue regole in un momento in cui c'è voglia di unirsi, ma le distanze restano d'obbligo.